Romina Power, quella da Costanzo è la mia ultima intervista Romina Power attacca Maurizio Costanzo Dopo lintervista con il conduttore, la cantante si è sfogata con un post su Facebook in cui ha messo nel mirino il programma e lo stesso Costanzo Lintervista di fatto andrà in onda nelle prossime ore, ma la cantante ha già rilasciato una dichiarazione che fa parecchio discutere . Vi voglio comunicare che lintervista con Maurizio Costanzo sarà lultima intervista in tv della mia carriera . Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dellintervista per esteso, corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. . Quindi, basta! Un attacco duro che a molti è parso inspiegabile. . Infatti la trascrizione che anticipa il colloquio con Costanzo che andrà in onda tra qualche giorno, di fatto replica in modo fedele le parole della cantante. . Dunque è giallo sui motivi che hanno spinto le ex moglie di Albano a rilasciare una simile dichiarazione. Nel corso dellintervista la Power avrebbe detto, non so che cos'è, è una cosa strana che mi lega ad Albano. Un legame indissolubile e mi fa venire veramente i nervi e questa cosa che ci lega non smetterà mai… . Adesso ha anche paura di dichiarare il suo amore per l'ex marito?. .